Nuova vita per il campo da calcio di Villa San Martino. Ieri pomeriggio il taglio del nastro al terreno di gioco completamente rigenerato in sintetico con un intervento da 900.000 euro. Il primo di vari traguardi in cantiere nella cosiddetta cittadella dello sport che fra calcio, basket, nuoto e pentaton si sta costruendo nell'area compresa fra via Togliatti e via Paganini. Oggi è un grande giorno per la comunità sportiva di Villa San Martino. Una bella realtà che conta 400 tesserati. È una realtà che crede molto nel settore giovanile, quelli che sono i valori dello sport. Abbiamo restituito un campo che non ne aveva più. L'augurio è che tante generazioni, queste e quelle del futuro, possano continuare a divertirsi e a vivere in modo sano quelli che sono i valori dello sport. È un campo che aveva un sacco di problemi, l'abbiamo rifatto da capo con un sintetico di ultima generazione esattamente come per lo stadio Benelli. In più la società si sta adoperando per sistemare gli spogliatoi e quindi anche un bellissimo gioco di squadra. Siamo molto contenti. L'ennesimo investimento che facciamo nello sport pesarese, nei campi da calcio. Abbiamo ottenuto anche un bel finanziamento dal Ministero per il nuovo campo del Vismara, colpito dall'alluvione. Al tempo stesso in questa zona si sta completando il campus sportivo perché abbiamo questa zona dove si gioca a calcio con una società storica come il Villa San Martino che fa un servizio sportivo e sociale straordinario. Poi di fianco alla piscina si sta costruendo la nuova palestra del Centro federale della Palacanestro e poi il vicino campo scuola, il Parco Miralfiore, tutta un'area lungo il fiume che diventa un piccolo campus sportivo a disposizione della città e a disposizione degli eventi sportivi che vogliamo sempre più ospitare.